ben ritornati a tutti benvenuti qua su SimItalia adesso abbiamo appena finito la gara dell'F317 e portiamo su i nostri ragazzi in cabina di regia intanto portiamo su qua a commentare con noi Federico Ramoni che gli faceva una piccola intervista perché ha fatto una bellissima gara adesso lo portiamo su eccolo qua Federico Ramoni benvenuto Federico Ramoni allora non andiamo subito in particolare partiamo un po' con calma allora com'è stata la gara? partiamo dal inizio però la macchina andava bene il motore funzionava no vabbè la pista bella divertente molto tecnica pista che piacciono a me di solito purtroppo in qualifica ho fatto una qualifica signori che se iscrivetevi questo giorno perché non succederà mai più nella storia delle corse mi sembrava 1.33.6 1.33.4 1.33.4 mai fatte qualifiche secondo per me è una roba allucinante bravo bravo io ho detto già al mio compagno in base a come a prescindere da come parto io in curva 1 mi butto dentro purtroppo sono all'interno metto lascio in folle come un idiota e mi trovo settimo in curva 1 perché ah ecco perché ecco perché non ho messo la marcia non ho ingrandato la marcia e vabbè capita e niente comincia la mia rimonta in chiarevo dietro a John Ray Tronza che è il ragazzino prodigio il predestinato ho fatto una fatica a superarla in mane cioè è stato veramente ho visto che ti ha chiuso per bene io ho fatto 22 giri dietro di lui poi all'uscita dai box ho tirato una staccatina un po' cattivella però direi in regola possiamo dire in regola sì mi si sono anche toccati forse ho visto e l'ho passato con gomma nuova e poi mi sono messo a spingere bene e il secondo stinto l'ho fatto bene perché alla fine sono arrivato sotto a Fulvio ero dietro di 7 secondi io li ho presi tutti arrivo sotto aria sporca le gomme surriscaldate consumate la foga di volerla superare prendo un cordolo un po' troppo violentemente e butto via tutte le mie speranze mi faccio anche superare da John Ray Tronza e vabbè e quindi è andata così bella gara bella gara io vorrei sapere chi è che mi ha scritto quel messaggino certo ho scritto Federico non tagliare troppo la pista allora qualcuno qualcuno l'avrà fatto però non possiamo dire no io non stavo tagliando io arrivare un replay non stavo tagliando la pista probabilmente si riferiva probabilmente l'ho visto anch'io si riferiva alla prima curva che tipo lì di solito puoi andare anche sul bianco capito può essere quello che intendevo però abbiamo pattuito che si poteva andare vabbè va bene magari non lo sanno loro ecco che non mi penalizzate sono felice ecco peccato peccato però è stata una bella gara no complimenti ti meritavi ti meritavi sicuramente il podio purtroppo lì hai sbagliato lì alla fine che te l'ha tolto è stato bravo anche Giorri Tronza rimanere sempre in zona non perdere il ritmo complimenti a Gianmarco che ha fatto una gara straordinaria si tempi fuori dal comune una roba bravissimo complimenti a Gianmarco complimenti a Fulvio complimenti a John complimenti all'organizzazione complimenti a te grazie che insomma hai fatto anche te una bella gara ci hai animato un po' questa gara che era sinceramente rispetto ad altre è stata un po' più distanziata ecco possiamo dire sono stati dei distacchi più notevoli magari era una pista in cui era molto molto difficile superare non è questa cosa qui guarda quando ci ho messo io a passare Tronza avevo mezzo secondo di passo eppure superarlo era però dai vedremo vedremo dopo queste tre settimane che è fine di agosto praticamente con Spa o Monza non mi ricordo non mi ricordo penso sia no vabbè vabbè la sì che ti puoi divertire sul passare e come va bene perfetto ti saluto e complimenti ancora peccato però complimenti grazie ciao e adesso portiamo su da noi abbiamo appena lasciato Federico Ramone portiamo su John Retronza il predestinato ciao ciao dimmi un po' come è andata la gara dall'inizio alla fine anche le qualifiche come sono andate allora partirei prima dalla pratica e i primi giorni non riuscivo a scendere con il tempo erano tutti a 33 io ero a 35 e non riuscivo mai a scendere poi è arrivato Fulvio e Salvatore e mi ha mi ha passato il suo setup e sono riuscito a scendere a 33 quindi pensavo di fare un buon risultato e poi in qualifica invece ho visto che riuscivo a scendere con il tempo poi sono finito a 4 ma non pensavo di fare molto meglio o terzo o quarto perché sapevo che c'era Federico Ramone che era velocissimo però ci ho provato poi in gara ho visto che lui è partito e in ritardo quindi l'ho passato poi ho avuto un po' di difficoltà con Fulvio però del resto mi sono divertito molto diciamo che posso essere sincero dire che hai guadagnato una bella terza posizione perché come si vedevano i tempi all'inizio probabilmente sicuramente con Gianmarco Maglioli vabbè lasciamo stare che lui questa gara l'ha fatto veramente non ha sbagliato nulla ha fatto tempi esagerati dopo c'era Fulvio Genova che alla fine ha perso infatti tu ti sei trovato probabilmente molto vicino a due secondi mi pare proprio all'ultimo sì vicinissimo quindi tu hai guadagnato comunque il massimo perché Federico Ramoni è stato sfortunato che ha sbagliato poi mi ha detto che ci ha preso un cordolo mentre te hai gestito benissimo la gara poi hai tenuto dietro però un bel po' di tempo Federico Ramoni anche sì stavo cercando l'interno dietro però lui sembrava un po' più veloce però adesso sono riuscito poi ci siamo toccati con Simone Villava e lui è riuscito a passare però ho visto che poi lui stava cercando di arrivare da Fulvio perché Fulvio si era girato non so se si è girato oppure ha sbagliato qualcosa no 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 ha proprio le gomme sono andate proprio le gomme non faceva fatica con le gomme ok lui mi stava spingendo per arrivare a superare Fulvio io stavo cercando di conservare le gomme e lui secondo me è arrivato già alle gomme le gomme le ha usurate tantissimo secondo me e poi per quello magari ha sbinnato complimenti da fare complimenti perché hai tenuto dietro sia Federico Ramoni cercato comunque di gestire un'ottima gara sei arrivato vicino a Fulvio Genova quindi veramente bravo allora ti lascio una bella terza posizione dopo la prima posizione a Silverstone quindi deve essere contento lo stesso sì sì sono contento lo stesso perfetto grazie saluto John ci sentiamo ancora ok ciao e adesso portiamo su un un altro protagonista qua com'è che lo chiamavi Mattia veterano vintage era il vintage era il vintage è proprio lui il vintage il Fulvio Genova il vintage il vintage il pilota vintage il veterano io lo chiamerei iscritto a l'accio con diversi nomi di patente quella vera si porta il grammofono ogni volta che corre praticamente adesso tutto bene tutto bene allora complimenti Fulvio per la tua seconda posizione sudata fino alla fine però alla fine non hai commesso nessun errore però qualche qualche problema sulle gomme sicuramente si sarà sentito raccontaci un po' anche guardando un po' all'inizio della gara diciamo che Gianmarco ha fatto un passo che era perfetto veloce costante io ho perso le gomme dopo pochissimi giri infatti cosa strana perché comunque dopo 7-8 giri ero già in difficoltà sia al primo stint che al secondo e niente quando le gomme cominciano a fare così è difficile tenerla nelle curve ho tentato di portare avanti la possibilità di non perdere altri punti Federico si avvicinava parecchio si è avvicinato parecchio poi ho visto che ha fatto un errore mi ha permesso di finire la gara tranquillo però gli ultimi 3-4 giri pensavo di dover fare in battaglia invece mi ha aiutato quello per il resto diciamo potevo sicuramente avere qualche decimo in meno sulla gara normale ma quello era il passo e Gianmarco ha vinto sicuramente e meritatamente con un passo superiore a tutti e quindi insomma ti sei guadagnato una seconda posizione diciamo sudata a livello psicologico se pensiamo che Federico Ramoni ti era arrivato probabilmente sotto al secondo quindi c'è c'è riuscito a tenerla calma e comunque quando lui è sbagliato ti sei potuto rilassare Giorgettonza ci ha provato ad arrivare alla fine se avessi avuto qualche giro in più probabilmente sarebbe riuscito però tu hai gestito molto bene forse anche per questo ha alzato i tempi un po' per gestire ho alzato i tempi perché avevo già 5 mi aveva segnato 5 uscite e questo non so per quale motivo perché comunque sono stati forse qualche errore così però non mi ero reso conto di avere già tante uscite fuori quindi per evitare anche il draw through cercavo di stare attento a ogni curva quindi quando stai attento riduci il passo e ho visto che dietro comunque John Ray negli ultimi due giri avrebbe avuto 3 secondi avevo del margine per poter accelerare ancora però rischiando ma non volevo rischiare quindi poi alla fine è andata bene perché si sono diciamo creati loro l'incidente ho visto che Federico è sparito non so qual era il motivo però sicuramente ha fatto un errore ha fatto un errore e bravo anche John che anche stavolta dopo l'ultima gara che ha vinto oggi di nuovo sul podio bravo John è stata una buona gara sì 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 ma per me sì anche perché in un'ottica campionato è ovvio che quando stai in difesa cerchi di perdere il meno possibile oggi poteva anche andare peggio visto i tempi degli altri eravamo diversi piloti sono abbastanza vicini alle qualifiche e fare il secondo per me è molto molto importante per i punti che ho preso allora ti ti faccio ancora i complimenti per la seconda posizione ormai sei abbonato la seconda posizione perché anche l'ultima volta era il secondo anche forse la volta prima della volta scorsa la volta prima ero primo però una volta salivo anche io prima ebbè no ci vuole ci vuole bisogna sbattagliare sbattagliare non sbattagliare sì con la S proprio sbattagliare con la S la prossima gara di fare un po' meglio visto che comunque Gianmarco adesso è in piena speriamo un po' di tempo per riposarci però dopo Gianmarco ti aspetta bene bene in forma lo vedo bene 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 ti saluto allora Fulvio ci sentiamo certo un saluto a tutti ciao 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 e adesso spostiamo il vincitore di questa gara Gianmarco Maioli Gianmarco Maioli che che ha fatto allora devo dire solo una parola per Gianmarco Maioli metronomo cioè non c'è altro da dire veramente hai fatto una gara a metronomo grazie guarda sto cercando di ritrovare la lista dei giri per vedere quanto quanto appunto bussavo con il metronomo non riesci non riesci a capire quale era il giro perché intanto erano tutti uguali no grazie mille prima di tutto come al solito io ringrazio amici ringrazio la mia ragazza che domani si va in piscina se che nel senso la ringrazio per il supporto di oggi e domani gli doni questa vittoria per la piscina le dedico questa vittoria e e niente bella gara mi sono divertito e allora sapevo di avere più passo di tutti sul sul giro secco anche se Fulvio ieri aveva si era riavvicinato però appunto sapevo che la pole poteva essere mia e quarta pole consecutiva non per per fare il superbo però abbastanza sono felice e e poi niente il setup era abbastanza preciso e mi sono allenato un pochino sui long run e niente ho iniziato a martellare Hammer Time perfettamente diciamo adesso possiamo anche dare un po' le conclusioni rispetto alla classifica a campionato che in questo momento ti vedi in prima posizione se non erro sì dovrei essere a tre punti in più su Fulvio perché purtroppo mi ha preso il giro veloce se no guarda il Grand Shelem era lì era proprio lì a un millimetro quindi sarà tutto aperto la prossima anzi le prossime gara perché sicuramente ricordiamo Spamunza eccetera eccetera quindi sì vedremo come andrà però dai tra l'altro tu hai fatto un 33-2 come best in qualifica però credo che tu adesso voglio solo una curiosità tu hai fatto anche un 32 no ho fatto 33-0-0 guarda te lo vado a leggere ho fatto 33-0-12 perché avevo visto che avevi fatto in qualifica 33-0 però ti hai dato il taglio sì ma in pratica l'avevo fatto senza taglio e ce l'ho ancora lì tra l'altro il teoretico mi dice che potevo scendere i due decimi ma guarda io non so come è uscito quel tempo va bene così insomma stiamo rosecando noi qua in regia e va bene ho fatto i complimenti sia a John che a Fulvio che comunque hanno fatto anche loro delle gare molto belle sicché Fulvio era lì dietro che mi osservava lo sentivo il fiato sul collo dopo un po' poi è sparito però purtroppo ha avuto adesso non so tu hai avuto problemi con le gomme no no ok hai gestito accettabili diciamo non fantastiche ma accettabili bravo bravo comunque Gianmarco veramente questa gara diciamo hai dato tutto cioè nel senso non potevi sbagliare nulla qua perché veramente grazie quando dico sei un metronomo oggi lei veramente l'hai dimostrato adesso dobbiamo vedere le prossime gare perché le prossime gare sono un po' più complicate perché hai rettilinei quindi è semplice sorpassare prime curve anche sarà tutto da vedere si spera di non fare contatti io spero di non no non si spera mai ok no si spera di non fare i contatti sì no non si spera mai dico ok no perché vabbè niente grazie mille buone vacanze a tutti complimenti allora noi ti salutiamo e ci salutiamo anche qua con tutti i spettatori che ci stanno seguendo in questo momento e quelli che ci seguiranno là sul canale rosso che in questo momento siamo sul canale viola sul canale rosso quindi allora qua con Mattia Babolin ciao a tutti buona serata a Sevedon Sevedon buone feste buone vacanze tre settimane di pausa per tutti sarete contenti sì mi taglio non la vedrete per tre settimane e e con qua la caporegia Federico Cavalli vediamo se si smuta sì sì mi sentono mi sentono mi sentono tranquillo perfetto buone vacanze tutti la nostra voce angelica va bene allora noi qua da Sevedon Italia salutiamo tutti i nostri spettatori vi auguriamo buone vacanze e ci sentiamo buone vacanze